Il 30 marzo del 1853 muore Vincent van Gogh, uno dei più influenti pittori della storia dell'arte. Geniale, passionale, eccentrico, un po' follo, van Gogh ha rivoluzionato l'arte pittorica con la sua tecnica innovativa della pennellata a spirale, con il suo sapiente uso del colore, con l'emotività che traspare da ogni suo dipinto. La notte stellata, Girasoli e ogni sua altra opera hanno lasciato un'impronta indelebile nell'arte moderna.